Oggi, 70 anni fa, si insediava una giunta comunale diretta dal sindaco Italo Bargagna, i cui assessori erano Tonelli, professor Leonida, Gallo, dottor Antonello, Ciancherotti, ingegner Ugo, Berretta, Meno, Bargagna, Alberto, Galluzzi, Vittorio, Marzili, Ragionier, Pio, Carlo, Frosini, Archimede, Landucci, Cesare. I missionari della politica li definì quando portai la proposta in consiglio comunale. Loro si trovarono a una città con migliaia di case distrutte, con famiglie che erano sfollate, che erano ancora lungo i monti pisani, che stavano arrivando senza cibo, senza mezzi. Queste persone, fino alle elezioni del 1946, si trovarono a affrontare difficoltà insolmontabili, ma insieme, provenienti da esperienze politiche diverse e lontane, insieme fecero il bene della comunità. Quindi oggi un momento di ricordo, oggi una partenza per studiare il loro lavoro.